cari amici veneziani e non sono valeria vi saluto da amsterdam dove mi trovo in residenza coatta involontaria però è andata così e adesso sto aspettando che ci sia l'occasione per un volo per tornare vivere lontano da venezia cresce anche la nostalgia per tutta la quotidianità delle nostre cose ha compresa quindi la pratica e la frequentazione della querini le sue bellezze gli incontri umani tutto quello che di bello si può fare è solo di bello alla querini penso in questi giorni ai libri che sono lì che mi aspettano per essere curati i momenti di break un caffè in caffetteria la lettura dei giornali tanti momenti piacevoli so che torneranno quindi mi attrezzo vivo questo tempo qui lontano anche cercando di cogliere nelle realtà di questo ambiente così diverso dal nostro cose che forse mi potranno essere utili e nella vita privata ma anche nella pratica della querini vi saluto tutti a presto comunque e grazie per questi strumenti tecnologici che spesso malediamo trattiamo male però in questo frangente sono veramente di una grandissima importanza e ci consentono di farci sentire reciprocamente ciao a tutti